Ma che ooooh! Chiudite la porta lì per favore va la Bentornati nel canale dell'epurnio abbiamo appena sbloccato Tarsarach come crocevia e continuiamo la nostra missione nella campagna di Diablo 4 quindi continuiamo con oasi di ricordi parla con l'orath se vi ricordate nell'ultimo video ci ha detto di raggiungere appunto l'osi e di parlare con lui quindi eccolo qui avete scoperto qualcosa sul palazzo di Elias Elias uno di quei nomadi potrebbe aiutarci come sono queste terre è meglio di no benissimo la tipa ah la tipa quella che ha preso il sangue ah esatto mi serve un posto per tenere a bada la sua voce trova una guida io cerco qualcosa per aiutare Taissa a liberare la mente trova la guida trova la guida allora cerca una guida a Tarsarach allora bisogna cercarne una qua vediamo qua tanto che questo qua ci siamo a... ci siamo una guida per superare la tempesta di sabbia nord vediamo già mai già mai bene andiamo a capire tutto l'oro di caldeum andiamo qua andiamo qua Naja vuoi guidarmi attraverso la tempesta di sabbia nord che vive al centro della tempesta vi strapperà la carne dalle ossa questa vedetta dove vieni in cuo e la goia e la rimane l'ultimo vediamo eccolo qua ma io sto cercando una guida a cui si provate invece di sabbia nord troverete un solo sciocco che accetterà una tale richiesta rinunciate e vivete più a lungo vieni in te neanche io aspetta e il vecchio? l'unica certezza a cui vi guiderà quello stolto inappidabile quindi un vecchio un vecchio un vecchio sembrerebbe che ci sia attenzione ma sei fermo sei ancora stai ancora parlando con il personaggio sei fermo? eh si perchè non era mica finito il discorso l'orat incontrati con sta cappella puoi trovare una guida dove è? non posso farlo qui dai intetti che no non sono riuscito a neanche parlare cosa sei da dirte non me la butta fuori perchè non mi da l'orat? porca puttana non neanche ha fatto vabbè in poche parole ci segue ha detto che dobbiamo trovare una buona guida ragione c'è il fiume di sta minchia dove hai detto sto fiume? sei alla ragazza il fiume? mi fa scunta adesso che cazzo vabbè andiamo ade qua la misura è andata la tua mia secondaria è andata la tua mia secondaria esatto che cazzo ma perchè ogni tanto te butta fuori ogni tanto me butta fuori secondo me si fa PS4 ha dei problemi in questo gioco ogni tanto se smarmella ti butta fuori se rallenta si impianta beh non si è proprio diciamo ha performante non è ottimizzato bene ah no vabbè mi butta fuori dal gioco ma se hai connessione viene fuori tipo ha disconnesso dei server errori di rete connessione ma quanto è che dura per passare tempo faccio il ciclone eh scusa l'uragano un attimo mi sono morto ma perchè vissi anche questa è andata core ma me guardo ma guardo non guardo Ah, devo cambiare le due le altre, ti metti allo spirito su porca, non ho qualcosa che me l'ho dimenticato Mi sono dimenticato di fare una cosa sulle abilità, su albero delle abilità, perché mi sono rimesso l'urlato sanguinario, però non devo mettere, cos'è sta roba che ho messo, della velocità, devo mettere questo che fa, l'urlato sanguinario genera anche 20 spirito, esatto, ok, così almeno quando faccio l'urlato mi carica un attimo la barra dello spirito Ah, è la bestia Oh, è un vecchio, tipo Dove se stavolta non saranno a far rotolare i loro cadavere in fiume Dove se stavolta qui Vabbè, è stata che ho messo là Stavo all'entrata del covo degli intossicati, sarà qua dentro, per forza, mi vedo qua Qua dentro Può l'essere Mi conviene voltarvi e andarmi allo spedio, amici Puoi dire che non si avevo avuto Voi? Ecco qua, abbiamo andato Ecco qua, abbiamo andato Sveglia 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 in balsamà Ho già pagato, ho detto, tronco duro già Incontra l'urlata a Meshief, alla cappella dimenticata, che c'è sempre una cappella sui tesori Ma dove c'è questa cappella dimenticata? Dai Sì, ma aspettami però, ho ancora di parlare con il vecchio io Sì? Cosa ha detto il vecchio? Non mi viene a caccarare il vecchio Cosa ha detto il vecchio? Non mi viene a caccarare L'ora ti ha detto che L'ora ti ha detto che ne serve il suo aiuto per superare la tempesta a nord e la sabbia Ma perché mi butti fuori sui dialoghi? Non ho capito questa roba Eh, bu Dai no, ma sempre una crede su sto gioco Oggi si deve buttare fuori su tutti i dialoghi Così sul video non si capisce un cazzo Vabbè vaffanculo Vabbè vaffanculo Adesso non strucco più niente Cioè strucco X e va Non so perché mi vado a struccato Ma mi vado a struccato che X Mi vado a buttare fuori Cioè mi dice missione compiuta Mi vado a buttare fuori senza sentire il dialogo Non ho capito perché Allora c'è un bug Cioè mi vado a buttare fuori Se magari funzionava oggi mi butta fuori Non so ma è poi strana questa roba Cos'è che devi partire il play no? No ma cosa? No è il gioco Questo qua c'è qualcosa del gioco Che fa qualche casino Cioè ho come legge che premo X do volte Ma non capisco Ma no ma poi per uscire dal dialogo Dobbio a prendere il cerchio Perché mi butta fuori Iiii ti ha tirato una lagata là? No Non mi sono neanche accorto Eh no Allora è dalla connessione a me Non so neanche cosa devo andare Sì se devo partire la connessione Non devo capire Viene tanto se la pianta lo metto Non posso farlo qui Ah mi sta sbloccando altra roba Dove cazzo sei? Sto col don Che ne fanno a speso come dei deficienti Sì Dove sei? Esatto prima Ma che sbarro in alto lago Non so Sì Ho quella svolta di sua madre però Eh lo so Non bisogna andare però Io Chris Che qualcosa vuoi? Incontro l'Orat e Meshiff Alla cappella di identità Come c'è? Ho seguito con il deserto con tutto E cosa stai c'è? Eh cosa stai facendo? Alla cappella Alla qua Alla qua anche il tappo adesso se si ferma ma se sta merda si ferma ma dove andava? ma dove andava? dove andava ammazzato le mani aspetta un attimo se controllo permette nato me che sta una mazza a due mani sminuzzamento e ora anche un'abilità di terra dopo aver lanciato sminuzzamento degli spuntoni da una carata meno 172 livello 572 no merda ti riputavi tutto ti? no merda perchè poi non ne faccio niente dell'abilità di terra mi serve la roba di tempesta mi serve che cacca questo qua se ho leppo su mi serve che non ne vado tutto in generale vaffanculo leppano bisogna stare a lavare gli oggetti sono davanti in mezzo al deserto del nate bene e davanti perfetto ma va bene adesso ti vediamo siamo in mezzo al eduno del deserto in mezzo al eduno del deserto e mosche questa roba è un mosso pieno a mosche che schifo guarda calabrone è il caso si esatto abbiamo cominciato il gioco tutto all'incontrare e fare subito le secondarie si va bene meglio così abbiamo il personale più forte che cazzo che ti dica vediamo se adesso mi butta fuori se mi asso a parlare o mi butta fuori a me dico a me quando schifo aspetta vabbè sta ancora parlando siamo in un luogo sacro ma ti dico a me quando schifo anche se vieni fuori del cerchio così non schifo a me vai eh no vedi che adesso me lo fa vedere secondo me se schiacci prima a te siccome stiamo facendo la campagna tua non mi fa vedere un cazzo eh però però adesso ho schiacciato io mi fa a parlare a me eh vabbè perché siamo nella tua campagna mi non so nella tua campagna se ti schiacci prima di me mi non vedo un cazzo eh vai di schiacciare no se no non mi fa vedere il filmato infatti che ieri cosa ci schiacciavo sempre il primo a me vabbè vada a interagire con la costata efficiente cosa vuoi eh questa cosa vuoi posso fare qualcosa per aiutarti cosa ti dice Andariel mi domandiamo cosa che dice Andariel cosa è terribile cosa è terribile che dice Andariel tipo a te piace che partite esatto vai parla guarda come esci ora che qualità dei cameo dai cameo no sei pronto e tu? spero che tu abbia le tasche piene di pozioni curative altrimenti e prendi quelle che vengo sulla vecchia Isabella la tempesta peggiorerà lo sento e beh le pozioni curative che ne ho 7 basterà 7 ne uso mai poi sai che mi non mi cura neanche più? perché tanto il mio personaggio si cura da solo eh? eh si ho un oggetto che mi cura da 19 fino a 130 vita al secondo che cazzo mi sto come cura ho due cancelli con la fatalità che sono tagliatore guarda che sono pieno di sangue sui vestiti guarda che schifo dai ogni volta vado pieno di sangue perchè guarda le cose non go dove sei andato quello? non è che sa qua come i deficienti dove andiamo andato? ah bisogna andare là guarda che metto la spunta vabbè ma siamo vicini perchè siamo allorat con noi comunque vabbè Kiger su allorat non ha detto Kiger su allorat se hai intrigato allorat la potuta è bella i serpenti vabbè vabbè adesso eccolo qua il tipo vai parla perchè ti sei fermato? assaporo questo momento assaporo questo momento non vedo l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora mi stava di bruciare comunque eh dove hai battito? che? c'è la ferma qua questo co***o? segue i main shift attraverso la tempesta di sabbia ve lo seguimo dai vabbè anche perchè abbiamo punti ferita eh ci ha perdito vita non chiedi vabbè C'è più in piedi, ha visto che ti buttano le gano Me l'ha buttato, torre del quarto solo me l'ha buttato Va bene, siamo fuori qua Dai, vuoi fare il cazzo, basta Se la ferma qua, questo, non so perché Vuoi buttare giù il cameo? No, se non Forse se devo mettere che ha posto il cameo Segui in un punto strategico Segui, interagisci Un altro ha un tesoro Un altro ha un'altra ventura sul tiro del rasoio Dai, ok beve questo è sempre che beve il tronco duro parla con me per seguire il viaggio vai parla vai muovete ai che ti dava a t non metti sei mesi per far da metri hai tanto soccorri e la rete 30 punti ferita volta per demona al 31 30 30 40 40 7 no tanto dai scorpioni quella che si grande vai guarda qua che beve non muoro perchè ti fai tipo barriera e ti attrappacca per se fa una bella pacca guarda vabbè deve essere finita sta tempesta indietro torniamo indietro torniamo indietro che succede la pipa ho lasciato la pipa nella cappella dobbiamo andare a prenderla no la pipa se provi a tornare indietro la pipa la cappella ti pianta una dama tra le scapole dai muovete è deficiente interagisci dai muovete fanno strada ancora muovete c'è un pappatore sui zone fanno sui zone fanno insieme a mio sui zone fanno la pipa non c'è più se non è solo si si è è è è Dove ti c'è? Non so, mi sa che aveva fermato i mostri Non si non è un mod, non è un mod Si, non è un mod, non è un mod No, non è un mod Mi ha fatto una monstra. Mi ha fatto un po' di scuola. Sì, però è dura. Mi ha detto che è morto. Mi ha detto che è difficile. Faccio anche quasi più ritornati Beh no, siamo salvi e si è alla sfida al prossimo calo, dovrebbe essere a posto Sì, è importante avere un obiettivo a cui puntare Non faccia parso o no, giusto qua eh Esatto D'ore Parla con sto deficiente Parla con me per proseguire il viaggio, dai Statemi vicini Dice sempre pare che i venti si siano calmati e vai in giro al caso Che si è venta a tutta forza Borda di Trieste, Caigo dura E dite no ma si è calmati Adesso qua va in giro con il cameo Dai, ti andavano andare a te colpo Caigo, Borda, Scirocco, Guardino Adesso qua va in giro con il cameo Non ho abbastanza spirito Non ho abbastanza spirito Guarda, non ho ticcaioni Non ho mai tutta Non ho mai tutta Non ho mai spalermi qua la paestra Gaditta, statemi vicini Gaditta Ma ti cassa un oggetto leggendale Guarda, anello L'ho preso anch'io Sotto la moschera Parla con me, Schiff Dove sei stato efficiente? Eh, sì Eccolo qua Bello, cacchio Forse è una reliquia dell'antico Kajistan Persa da tempo Finché Elias non l'ha recuperata Conterrà di certo dei tesori Conterrà di certo dei tesori Meshiff Non muoverti Non parlare Qui si annida un grande male Ti sei fatto timoroso Con l'età, amico mio Ma non temere Me ne starò buono Guarda questa bomba Con l'età, mi è l'ora